Ciao benvenuto nel nostro canale qui ti tengo aggiornato con le ultime novità della Juventus. Primo, se non sei iscritto. Quindi iscriviti, per rimanere sempre aggiornati su quello che succede in casa bianconera. Gli ultimi 16 mesi sono stati difficili per Federico Cherubini. Il direttore è stato inibito per tutto questo tempo dal lavorare a causa del suo coinvolgimento nel caso Plus Valenze della scorsa stagione. Alla Juventus, Federico Cherubini non ha avuto molto tempo per mostrare il suo lavoro. Tuttavia, tra pochi mesi, Cherubini tornerà al lavoro. Proprio così, Federico Cherubini, tra pochi mesi, potrà tornare a lavorare a pieno regime, giusto in tempo per la prossima stagione estiva. Secondo TuttoSport, l'ex dirigente della Juventus ha già un pretendente, che sarebbe un club di serie B. L'identità del club in questione non è ancora stata rivelata. Cosa ne pensi? La pena che Federico Cherubini ha ricevuto è stata giusta o no?